E' finita 4-1 per il Pescara, l'amichevole di Silvi contro le penne, formazione che partecipa al campionato di eccellenza. Tanti gli effettivi non rischiati dal tecnico Silvio Baldini, ma solo a scopo precauzionale. Gli unici con dei problemi sono Erasmo, Moulet e Tonin, che forse anche domani lavoreranno a parte. Non hanno preso parte al test amichevole Pellacani, Vergani e Bentivegna, oltre ai due giocatori. Nel primo tempo riferimento offensivo Zappieri a segno Antonino De Marco e Merola, nella ripresa accorciato le distanze Cellucci, poi gol di Staver e nel finale di Lorenzo Meazzi. Nel pomeriggio c'è stato anche un evento benefico in collaborazione con la Pescara Calcio, ha parlato il presidente Daniele Sebastiani che è tornato sull'operato dell'arbitro di Pesaro e sul momento del Pescara. Si sono calmati un po' gli animi dopo quanto è successo a Pesaro nell'orario insolito delle 12.30. Ma sì, calmati non è che ci è stato più di tanto, sicuramente abbiamo fatto notare quello che credo che tutti hanno visto, ma d'altronde se a fine di una partita l'allenatore della squadra ospite, piuttosto che il presidente, piuttosto che i dirigenti ti chiedono scusa per come è andata la partita, vuol dire che qualche cosa non è andata per il verso giusto. Può capitare una giornata storta a tutti, ma credo che all'arbitro sia capitata veramente una giornata non storta, ma stortissima. Però al direttore Pasquale Foggia è arrivata l'inibizione fino al 26 novembre, l'arbitro Castellone di Napoli domenica prossima già dirigerà Foggia Juventus Next Gen. È stato premiato per la bellissima partita che ha arbitrato a Pesaro. Pescara sta bene, la squadra sta molto bene. No, Pescara sta bene, usciamo dalla partita di Pesaro con la consapevolezza di essere una squadra che lotta, che forte, che domenica se andiamo a vedere nessuno si è accorto che eravamo con un uomo in meno, anzi con due. Quindi, secondo me, quello che dobbiamo guardare, da lì dobbiamo ripartire, fa male ancora di più perdere una partita dove tu non hai rischiato mai nulla e potevi vincerla tranquillamente, potevi fare quello che volevi, era tutta nelle tue mani e invece sei tornato a casa senza manca un punto. Sestri Levante nelle ultime cinque ha subito solo due gol, di cui uno dalla Ternana al novantatresimo sul rigore. È una squadra che si difende molto bene, che riparte molto bene, quindi bisogna stare attenti perché in questo campionato, ripeto, nel girone B della Serie C ci sono squadre che lottano fino alla fine tutte e questo è un girone livellato abbastanza in alto rispetto agli altri due gironi. Quindi è una partita da attenzionare, non è assolutamente facile, anche se la classifica del Sestri Levante dice altro, però noi dobbiamo essere quelli che siamo sempre, essere feroci nel aggredire l'avversario, nel giocare come abbiamo fatto fino adesso. In quella maniera può darsi che non abbiamo bisogno di nient'altro, però se pensiamo di incontrare una squadra facile abbiamo sbagliato tutto. L'ultima, Presidente, prima di Natale potrebbero esserci novità sulla società o è ancora prematura? Me lo auguro, me lo auguro con tutto il cuore. La Germania? Non solo, me lo auguro di tutto il cuore che mi possa fare questo bel regalo a Natale. Anche la Pescara Calcio in collaborazione con questo evento di marketing, direi è riuscito, evento di marketing in grande stile e beneficenza. Sì, c'è uno scopo benefico e poi ringrazio Remo Firmani della firma che ha organizzato l'evento, ancora non finisce, nel pomeriggio ci sarà un seguito all'evento organizzato questa mattina, però sicuramente è una bella iniziativa. Soprattutto per fine benefico, la Pescara Calcio è sempre presente. Sì, quando c'è da fare qualcosa per chi ha bisogno noi ci siamo. Di cosa si è parlato? Si è parlato di storie di imprenditori che hanno fatto qualcosa nella propria vita, è bello sentire tanta gente che racconta da dove è partito, da dove è arrivato e da dove vuole andare. La storia di Sebastiani qual è? L'ho raccontata stamattina, una storia che parte da molto lontano, che fino ad oggi ci ha visto fare tante belle cose e speriamo di continuare a farne.